Non solo sarà della partita, ma sarà capolista nella civica La Puglia con Emiliano. Il punto è che il suo non è un nome qualunque nel panorama dei candidati che via via ufficializzano la propria discesa in campo a sostegno dei sei candidati governatori. Lei è Desiree di Geronimo, il magistrato barese che ha condotto l'indagine nei confronti di Nichi Vendola, accusato di aver favorito la nomina di un primario e assolto lo scorso ottobre. Non una qualsiasi, tanto che a Vendola quella candidatura non è andata affatto giù, al punto da definirla una sgrammaticatura pesante, meritevole di Pietas. E chissà che quello sguardo per nulla sereno che mostrava Vendola venerdì scorso alla convention di presentazione delle liste Noe a Sinistra non fosse la reazione alla notizia appena trapelata, ma che poi ha dovuto lasciare spazio alla diplomazia dalleati. Ora è la di Geronimo a parlare al fianco di chi l'ha voluta della partita, Michele Emiliano. Condivisione di programmi, di obiettivi, di ideali, certo, ma quell'argomento non scivola via. Emiliano, più cauto del solito, pesa le parole e la chiude così. La democrazia consente a ciascuno di dare il giudizio che gli pare. Rispondo io al posto della dottore. No, posso rispondere, non fare il tutore. No, non faccio il tutore. E' la PM in aspettativa a spiegare invece che per lei il tutto appartiene al passato, senza imbarazzi. In passato ho fatto il mio lavoro, l'ho fatto congiuntamente ad altri due magistrati e non mi crea alcun imbarazzo nel momento in cui l'anno scorso ho scelto di impegnarmi in un percorso politico. Sono una persona serena, ho fatto solo il mio lavoro e non ho, diciamo così, conti in sospeso con nessuno. Mi pare evidente che ci sia una progettualità in questa mia candidatura che va oltre tutto ciò che appartiene per me al passato. Chissà se anche Vendola riuscirà a pensarla così nel mese che rimane di una già fibrillante campagna elettorale.